Benvenuti in terapie, seggiolini in circolo, siediti e facciamo due chiacchiere. Allora, se è la prima volta che vieni qua, benvenuto. Ma allora, parliamo oggi di doghe verticali, un argomento che mi interessa in maniera particolare e vedo che la costruzione interessa un po' a tutti. La peculiarità delle doghe verticali, veniamo al sodo. Quindi, doghe verticali, costruzione, ormai lo sappiamo tutti, spero, quindi doghe, 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 in maniera verticale. Che cosa? Allora, ci sono diverse costruzioni, ma ci arriviamo dopo. Diciamo che la peculiarità, la cosa che ci interessa di più delle doghe verticali è la rapidità di trasmissione. La prima trasmissione. La vediamo con un fusto, dopo vi faccio vedere alcuni fusti. Quindi, essendo così un pelino un po' più rapido, può essere molto interessante, soprattutto in studio, ma anche dal vivo per alcuni motivi che vediamo durante la costruzione. Quindi, cosa succede? Essendo un po' più rapido, la cordiera vibrerà un po' prima. Quindi anche lì ci sarebbe da vedere la tipologia di costruzione di colla, anche se ne viene utilizzata sempre, quasi sempre solo una. Insomma, difficilmente troverete un rullante a doghe verticale che trasmette male, a differenza delle altre costruzioni che, se non sono fatte bene, possono anche non trasferire la prima trasmissione. Ma veniamo a noi, vediamo i fusti. Intanto, vi faccio vedere. Qua io ho diversi artigiani che costruiscono, ho diversi artigianali in doghe verticali. Antico è uno di quelli che mi piacciono di più, insieme al nostro italiano Steppo. Per quale motivo? Perché, allora, Antico, tra l'altro, quando l'ho conosciuto, il primo rullante che ho sentito di Antico, adesso si sente la cordiera, la cerchiamo di fermarla, il primo rullante che ho testato di Antico, mi è piaciuto molto, proprio perché ha questa trasmissione, ma resta un po' il corpo, non dico del multistrato, ma quasi, proprio perché sgorolla i tamburi a mano e mantiene, diciamo, quasi al 100% lo stesso legno. Che so vuol dire della stessa tavola, anche qua, eccetera, eccetera, quanto non te lo dico. Della stessa tavola, della stessa stagionatura, quindi, anche lì, bisognerebbe vedere che cosa utilizzano. Però, soprattutto, della stessa essenza. Per quale motivo? Perché, a differenza, appunto, delle altre costruzioni, qui, il cambio di essenze, quando vedete, non so, facciamo acero, pioppo e acero, qui, quella differenza lì, non la sentirete. Quindi, andremo, a discapito della trasmissione, cioè il suo punto di forza, a toglierne, perché trasmetteremo in maniera differente. Cioè, l'acero trasmette a una certa velocità, il pioppo ad un'altra, essendo un po' più morbido, e via discorrendo tutte le altre essenze. Quindi, noi, la prima trasmissione, questa, se non siamo, come in questo caso, tutto nella stessa essenza, la perderemo. Quando ho conosciuto Antico, gli ho rotto le scatole per avere tutti i suoi primi rullanti. E ce li ho io. Quindi, mi è piaciuto molto. Se vedete, se riuscite a capire, queste plume, come sgrolla, vedete, come lavora. Qua abbiamo, qua, ho deciso io di dieccare, ho deciso io di alcune cose, ma questa è costruzione a doghe verticali. Se vedete, questo è Antico, questo è il numero uno. E, allora, la peculiarità di Antico, come quasi tutti i costruttori, è di stare un po' più piccoli, con le macchinette. Anche lì, c'è chi dice no, ma io direi di sì. Qui, praticamente, allora, cosa succede? Se noi andiamo a ibridare il fusto, parlavamo prima, appunto, cambiamo la trasmissione nei vari punti. Cioè, la pelle, per intenderci, prendiamo un'altra, la pelle viene colpita, la prima trasmissione avviene qua, e va, uh, palla che fusto. L'avete già visto? Se sei qua per la prima volta, questa è veramente meravigliosa. Uno solo di questi rullanti. La prima trasmissione c'è. Colpiamo al centro, si trasmette sul bordo, ed avviene sotto. Arriviamo sotto di qua, per prima cosa. Quindi, io qua ho uno steppo qui, anche qui, macchinetta piccola. Qua è un pelino, ma di poco più leggero dell'altro. Questo è Morgano, il mio legno preferito, uno dei miei legni preferiti. E, veramente, insomma, diciamo che sono opere d'arte. Cosa mi piace nel verticale? Adesso ci arriviamo. Mi piace quel discorso lì della trasmissione. E, mi piace mantenere tutte le volte esco il timbro della tipologia che andiamo a scegliere. Se diciamo acero, paduc, quello che vogliamo, mi piace totalmente in acero, totalmente in paduc, perché il discorso che abbiamo fatto prima, se no, andiamo a perdere. Serve un po' poco. Cioè, andiamo veramente a discapito della trasmissione. Lì, trasmettendo in maniera diversa l'accordatura sotto sarà un po' più particolare. Dovremo fare un accordatore un po' più particolare, ma lì e delle accordature forse un giorno ne parleremo. Veniamo qua. Adesso vi faccio vedere un altro acero. Eccolo qui. Qua totalmente in legno per avere proprio tutto l'acero del mondo, anche nelle meccaniche. Guardate che meraviglia. È tutto intarsiato. Cioè, antico, lavora veramente bene. Sono, chiamiamole opere d'arte. Non so neanche come chiamarla. Ecco qua. Adesso vi faccio vedere se riesco. Ok? Queste acero. Sempre il numero uno. Vabbè, qui abbiamo la tricca. Ma una particolarità dei bordi di antico è che invece di scendere magari a 45 e poi rimanere dritto nel fusto, per lui, per fare scivolare meglio la prima riflessione, anche lì, questo ragazzo sembra una roba da poco, ma non l'è. svasa e stonda alla fine del 45. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui scende a 45, ok? Quando scende, invece di scendere a 45 diretto sul fusto, scende e lo stonda. Gli leva, fa in maniera che la prima riflessione scivoli via. Differenza sì, è chiaramente sempre il solito discorso, no? Non siamo in prossimità, quindi lo sentiamo un po' meno, però effettivamente ci sono sotto i microfoni vi faccio vedere un altro antico, eccolo qua, questo è il paduc, non so se capite la bellezza, qui è tutto naturale, antico non fa trattamenti, quindi è un po' più delicato, però va bene, veramente bello, molto bello, anche qua, non si capisce il rosso di questo paduc con le venature scure, ma è veramente bello, io, insomma, questa webcam non paga, un giorno avrò una webcam dove vedrete i dettagli, riuscirete a capire, ma veniamo al discorso costruzione, ok, abbiamo detto, sì, molto, molto bella questa trasmissione, quindi mi darà tanta corda in più, quindi dovrò decidere la cordiera, a questo non me lo merito, ma ve lo faccio vedere, qui ci sono, è il mio primo signature, eccolo lì, è l'antico, Giorgio Paini, che mi ha dedicato, antico, con le rose, visto che, ormai le avete viste tutti, rosa, rosa, le rose mi piacciono molto, ce le ho scarabocchiate un po' dappertutto, e quando lui ha visto le mie foto sul profilo, mi ha fatto questo fusto, questo, diciamo, non lo so, meraviglioso, e mi ha chiesto se lo volevo, quanto lo volevo spesso, e io l'ho alleggerito parecchio, ho scelto io le specifiche, mi ha fatto un fusto, ma se un fusto, come lo vorresti con le specifiche? non mi aspettavo un signatur, e quindi gli ho dato le mie specifiche, e lui l'ha costruito, l'intarsio, le rose, va bene, lasciamo starci qua, era solo per farvi vedere, capire che ci sono artigiani, che fanno opere d'arte, e io, sapete che spingo l'artigianato, rispetto all'industria, proprio perché, questi sono, tublags, arcavati dal pieno, questi sono artigianali, anche, vabbè, un discorso infinito, ma veniamo a noi, che cosa invece, non mi fa completamente impazzire, delle doge verticali, una cosa che non mi piace, è non ibridare, in sezione, cioè, chi ibrida, se vedete sui vari, vari costruttori, che ci sono, pagine Facebook, internet, andate bene a vedere, vedrete magari, dei cambi di legno, e quello non mi piace, perché andrebbe calcolato, calcolare, la trasmissione, di un legno, rispetto a un altro, capirete, che è molto difficile, ma, ad oggi, non ho qual fusto, ma ve lo farò vedere, in un secondo momento, perché poi, comunque, continueremo, a parlare di costruzioni, e vi farò capire, quindi, per cui, volevo capire, se mi toglieva, tutta la trasmissione, quanto dovevo andare a incidere, quindi, ho fatto i calcoli, per un rullante, che venisse esteticamente, molto bello, acero e paducca, con delle fette, totalmente diverse, quindi, ci può essere, una linguina di paducca, poi un pezzo grande di acero, poi due lingue, un po' più grandi di paducca, questi sono calcoli, che non ho fatto, totalmente io, chiaramente, mi sono fatto aiutare, perché era veramente, un casino, e ci siamo andati vicino, cioè, non sono perfettamente, al millimetro, quelli che, che gli avevo dato, ma mi ha costruito, un fusto, più o meno così, e, insomma, effettivamente, poi sotto il microfono, il fusto rendeva, anche la prima trasmissione, senza pelli, senza nulla, è solo il fusto, si va a testare, ecco, magari una cosa che non si sapeva, poi dopo, andremo a mettere a prima le meccaniche, poi pelli e cerchi, test, poi cordial test, e lì abbiamo, diciamo, lo spettro completo, e vediamo effettivamente, quanto va a trasmettere, tanti costruttori, e qui, non me ne vogliano, però, per quanto mi riguarda, le varietà, io qua dico quello che penso, un po' di quello che ho testato, costruiscono in doghe, molto spesse, le doghe molto spesse, hanno una peculiarità, sicuramente, vantaggiosa, qual è? mettono un po' più a fuoco il suono, e perché? Capiamo perché? Perché se noi andiamo a prendere, un diametro da 14, gli mettiamo i due centimetri e mezzo, ok? Se facciamo due centimetri e mezzo di doga, noi stiamo suonando su un 13, con tanto legno intorno, cosa vuol dire? L'aria che rimane dentro, è esattamente di un 13, la trasmissione sarà tutta, prima trasmissione, molto veloce, anche con la compressione, perché ne abbiamo meno, e quindi molto, molto, molto sensibile, non so, per le marcette, per un'orchestra, poi tanti lo usano normalmente, io qua ne ho, non lo so, un paio, due o tre, con le doghe spesse, non mi fanno impazzire, magari ecco, un rullantone con le doghe spesse, mi ci può anche stare, però, se io voglio tutta compressione, tutta trasmissione, a discapito un po' del suono, ci può stare, però poi lo devo mazzolare, cioè, devo suonarlo abbastanza forte, per fare vibrare, e tirare fuori la voce propria, ne abbiamo già parlato, no? Di voce propria, cosa vuol dire sentire il timbro, ok, lo mantiene, tutti lo mantengono, cioè, adesso sto sempre parlando di piccole cose, anche se qua, parliamo di una cosa che anche orecchio nudo sentiamo, questa differenza, magari non ce la rendiamo conto, oggi che lo sai, ecco, se lo vai a provare, ti rendrai conto, metti due doghe verticali, uno leggero e uno pesante, e troverai queste differenze in maniera molto nitida, e la puoi proprio sentire con le tue orecchie, se andiamo sul discorso di registrazione, chiaramente resta un pelino un po' più lineare, apre un po' dopo, cioè, diciamo, le basse, che a tutti noi piacciono, vengono aperte un po' dopo, e quindi un suono un po' particolare, con la doghe molto spessa, si sente la differenza del legno, sempre che sia 100%, paduco, acero, no? Non stiamo discutendo, se andiamo a imbaridare con le doghe pesanti, è ancora più un casino, quindi, lo sconsiglierei, oppure, sicuramente non ha un rullante che mi piacerebbe, poi magari a te piace, però, diciamo, nell'immaginario collettivo stiamo parlando di costruire una cosa bene, per raggiungere un obiettivo, e quello è, se il tuo obiettivo è, o la tua peculiarità, è di avere un rullante così, quindi un costruttore che costruisce così perché ne è consapevole, i costruttori, diciamo, si spera che siano consapevoli di quello che fanno, e, è così, insomma, avrai una compressione esagerata, quindi anche la seconda riflessione, cioè la compressione dell'aria, invece di essere più lenta, sarà più veloce, proprio perché ne comprimiamo meno, riducendo il diametro, è in automatico una cosa, voglio dire, fisica. Dunque, intanto abbiamo imparato due cose sulla costruzione, che sarebbe meglio non ibridarla, se non facendo dei calcoli, per avere più o meno la stessa trasmissione, se non andiamo a trasmettere alla pelle sotto, così, in maniera differente, è ok che magari lì parlo sempre dei microfoni, lì per lì non lo sentiremo, ma se andiamo a registrare, queste cose un po' si sentiranno, e l'accordatura, per quanto, c'è, anche qua, una cosa un po' difficile, ma accordare, la pelle risonante, è sempre per tutti un po' un problema, perché comunque è un po' più difficile, se vogliamo, quindi di solito il, tanti che ho sentito, vanno un po' a caso, ma non sentono, ok mi piace, allora accordo sopra di conseguenza, ci sta, però non è proprio così, comunque, costruzione, d'olio verticale, hai capito, che per me hanno una peculiarità, rispetto alle altre costruzioni, poi attenzione, perché col multistrato, possiamo andare a ricreare questa velocità, anche se abbiamo ibridato, utilizzando una colla differente, discorso che faremo, magari quando racchiuderemo, tutte le costruzioni, va bene, se sei arrivato, oh 14 minuti, mamma mia, volevo fare un corto, come è solito, se sei arrivato fino a qui, come sempre con amore, grazie, perché vedere un video per intero, lo dico sempre, ma non smetto mai di ripeterlo, è una cosa, difficile al giorno d'oggi, ed è importante per me, perché lascio dei contenuti, e mi piace condividere, se sei arrivato fino a qui, è della prima volta, questo canale nasce un po', per diventare un forum, quindi non lo chiedo mai, ma iscriviti, e vieni, dovremmo fare, sempre, delle dirette, quindi, l'idea è di farci, ok, ti lascio dei contenuti, ma per farti venire in diretta, per parlarne insieme, condividere, questo discorso qua, degli strumenti, che è, del nostro strumento, la batteria, che ci piace, moltissimo, ok, mi raccomando, resta, un batterista, non in uno,